Una partita importantissima, io vengo da un periodo non felice, di conseguenza è normale che un'altra non soddisfazione non alzerebbe molto il morale e soprattutto lascerebbe un grande dispiacere e non ci voglio neanche pensare perché 15 partite abbiamo fatto 21 punti cioè è un percorso da terzi in classifica perché se io vado a vedere dalla mia presenza qua noi siamo terzi in classifica cioè questa è una squadra che con tutto il rispetto però avesse avuto lo stesso percorso come abbiamo tenuto noi era una squadra che poteva essere tranquillamente dentro i playoff, di conseguenza ci sarebbe ancora più dispiacere la sto vivendo con grande attenzione, con grande dedizione cercando di portare questi ragazzi perché onestamente penso che se lo meritano La gara di andata mi ha insegnato due cose, primo che nonostante abbiamo qualche giocatore esperto siamo entrati in campo con un po' di paura e questo non deve succedere assolutamente perché giochiamo in casa, troveremo una squadra, già l'ho detta i ragazzi che non ha niente da perdere, di conseguenza è una squadra giovane che può avere la mente libera di conseguenza è una squadra che può darsi che ci venga a attaccare, che ci possa mettere in difficoltà dobbiamo essere bravi a giocare da squadra e la seconda cosa che ha, ho trovato una squadra che in alcune situazioni ci ha messo effettivamente un po' in difficoltà perché? Perché lo ripeto, sarò molto ripetitivo però loro hanno delle caratteristiche di baricentri bassi, di conseguenza che di fronte ai nostri che hanno un pochettino un passo diverso, in qualche situazione siamo andati in difficoltà però poi abbiamo avuto anche la consapevolezza che abbiamo avuto sei occasioni da gol e qui deve scattare un attimino di rabbia, di cattiveria perché torna a rivedere in partite dove si gioca tutto un campionato non si possano sbagliare tutte quelle occasioni da gol No, Petrella l'abbiamo recuperato, è recuperato per quello che può dare Mirko in questo senso c'è un giocatore che è stato due mesi tra infermeria, infortuni, rieducazione e via dicendo e tutto lui già nel suo score passato non ha una continuità di lavoro e via dicendo e tutto è un giocatore che probabilmente può avere 20 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora me lo auguro, se dovesse ritenere opportuno e di conseguenza è a disposizione gli altri abbiamo i soliti problemini con Spighi che si porta appresso ormai da una vita perché da quando è arrivato l'ho avuto e non l'ho avuto e per il resto sono tutti a disposizione, di conseguenza c'è l'imbarazzo della scelta c'è chi sta meglio e c'è chi ancora deve trovare chi ha giocato di meglio e che in conseguenza fa un po' più fatica, però torna a rivedere, è una partita in cui non si può stare a guardare io metterò in campo chi durante la settimana mi ha dato le migliori garanzie che mi ha dato l'ho avuto